Oltre quattro secoli di reclusione, questo il pesante verdetto emesso dalle gruppe distrettuali di Reggio Calabria e Filippo Aragona all'esito della Camera di Consiglio del maxiprocesso mandamento ionico che è terminato nella tarda serata di ieri. Sono 35 le condanne da uno minimo di tre anni ad un massimo di 20 anni, nonché sei assoluzioni che in sostanza confermano il quadro accusatorio rappresentato in sede di requisitoria dai pubblici ministeri Antonio De Bernardo e Francesco Tedesco della Procura Antimafia Regina. Gli imputati sono accusati a vario titolo e con modalità differenti di reati che vanno dalla partecipazione all'associazione mafioso-unitaria denominata Andrangheta alla detenzione illegale di munizioni ed armi comuni da sparo e da guerra rese clandestine, turbativa d'asta, illecita concorrenza con violenza e minaccia, fittizia e intestazioni di beni, riciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e numerosi altri delitti collegati, tutti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività della predetta associazione mafiosa ed altro. Le condanne più elevate sono toccate ai presunti vertici delle consorterie indagate nel contesto dell'operazione e mandamento ionico che in questo caso è stato suddiviso in più parti territoriali che hanno riguardato la città di Reggio Calabria fino all'area grecanica ionica, quindi nelle zone comprese di Bova, Melito-Portosalvo fino a Palizzi ed ancora la Locride da Africa a Portigliola con al centro Locri come emerge dagli esiti investigativi dei Carabinieri dei ROS, dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e del gruppo di Locri. Tra le condanne emesse dalle gruppe Aragona c'è anche quella dell'avvocato Giuseppe Pino Mammoliti, già amministratore e consigliere comunale della città di Locri, condannato a tre anni di reclusione per il reato di favoreggiamento aggravato a fronte di una richiesta a 12 anni per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Nel processo è intervenuto un ampio collegio di difesa composto tra gli altri dagli avvocati De Stefano, Scarfota, Dei, Febbraio, Alvaro, Bertone, Iemma, Iaria, Gatto e molti altri ancora. Il gruppe ha riconosciuto il risarcimento dei danni alle parti civili sia pubbliche quali la Regione Calabria e la città metropolitana che ad una serie di comuni nonché a diversi parti private. Infine, il giudice ha indicato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.